Profumo ancora di dopobarba, uomo dalla pelle delicata, dal petto glabro, un lucente temerario, miei condottieri, miei templari. Il tempo, quanto tempo è trascorso, questo tempo che oggi si sta appannando, anche perché a Bologna sta scendendo la nebbia e chissà se nella zona arancione passeremo a quella gialla e poi di nuovo illuminati, sempre terni o sempre verdi, ancora fuorizzeremo nella verde e la debeltà di una vita rinnovata come la mia, di vitalità. Su questo mio strabismo di venere, io, giammai ammalatomi di malattie venere, io uomo forse venerabile, odiabile, amabile, godibile, sicuramente sorprendente e inaspettatamente, ripeto, ancora presente. La leggenda dei lucenti temerari, la mia nuova pubblicazione. Qui sono contenute non 100 copie, perché 100 meno 1 fa 99, 99 copie di questo mio libro pregiato, rinomato, userei dire altisonante, in questa società decaduta, degradata e semplicemente offuscata e permeata da paure oscurantistiche dettate dal terrorismo indottoci, a sua volta dal Covid-19. Vengono spaventate le persone? No, vengono spaventate nuove disposizioni? Io soffri di indisposizione? Io mi ammalai del DOC, del disturbo ossessivo compulsivo, forse fui affetto da manie igieniche, io uomo che risplende, rifulge di estrema unzione, no lindezza, di manie come nepatì, il grande germicolo, sono di qualcosa cambiato, as good as it gets, e stavo per scomparire nella notte delle mie tenebre angoscianti, delle mie ansie, insuperabili, ma io essendo come il tuo onorio mare insuperabile, riemersi non come mister nessuno, bensì come Nettuno, e adesso vado elevato, magnificato, glorificato, potrei dire anche beatificato, ma non santificato, sanificato, ecco, in un tempio figlio della cultura ellenica, elegante, ed altri tempi, uomo che spremette le sue tempie, spinse sulle sue meningi e sconfisse ogni mia possibile, eventuale, sorpassata demenza, ora, che leggenda, ora, che fantastica storia, la vita, una dolce, leggiadra, euforica per l'appunto, poi malinconica avventura, ci si deprime, ci soscura, ci si rapisce, noi stessi rapiamo, in un intorpidimento, intorpidimento, di noi ranecchiati, nella copezza e nella tetraggine più allarmante. Dicevo, Doc, stavo sparendo, stavo scomparendo, così come McFly, il padre di Michael J. Fox, dell'immensa saga, bellissima, meravigliosa, superba, oserei dire, immaginifica, e giammai anacronistica di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, Doc, sigla, acronimo, di dottore, un dottore, scienziato pazzo, come lo fu il falotico, adesso diventato, come Adriano Celentano, innamorato pazzo, perché prima di leggervi alcuni stratti di questo mio libro, voglio ritornare a speculare ipnosi, un libro che ha in copertina una donna, oserei dire, imbattibile, dalla venusta invincibile, una donna della quale sono felicemente innamorato, entusiasta, e ne vado fiero, mie fiere, orgoglioso, non la incontrai in zona fiera, di via Stalingrado, qui a Bologna, nei Filsinei, bensì il nostro incontro avvenne già, più di tre anni fa, in maniera fugace, fuggevole. Inizialmente fui schivato, quasi schifato da uomo incapace, perché mi approcciai a lei, tre anni or sono, e più, definendola una bellissima figa, con enorme impavidità e sfrontatezza e sfacciataggine. Fui da lei gentilmente rifiutato, con lieve cortesia. Poi lei mi vide apparire in un video su Instagram, al festival di Venezia, dove vinse il leone d'oro, Joker, e la colpì, classico colpo di fulmine, il fulgore, che fu la base della mia restaurazione, della mia nuova vita, rifulgente, chissà, speriamo, dobbiamo essere ottimisti, di suavi aurore. E il 5 giugno la incontrai dopo che ci chiusero, in quarantena, impedendo lo spostamento tra le regioni, vedete, il linguaggio dei pauper, terremotante, la nostra vita fu scossa da turbamenti preoccupanti, ma si è stabilizzata, o forse, semplicemente deve procedere ininterrottamente, in modo continuativo, in maniera perturbante, malgrado molte gelosie intercorrono fra me e lei, in modo amorbante, ma in modo anche sacrosanto, perché la gelosia c'è quando il cuore scalda, alpita, batte, e le nostre emozioni da qui auscultiamo, per congiungerci serenamente, non soltanto carnalmente, ma la nostra lei, o metafisicamente, quando lei è lontana e respiriamo remotamente il suo profumo leggiadro, dicevo, il 5 giugno, io e lei finalmente ci incontrammo e miracolosamente amoreggiammo. Lei riuscì a scardinare la durezza del mio essermi pietrificato, segregato e sepolto vivo per un tempo immemorabile. Malgrado con lei non mi sia sverginato, ciò avvenne molti anni addietro, in una landa deserta, scoperta, ripescata dai meandri, dagli anfratti, dei dalici, della mia mente labirintica e della mia coscienza assopitasi e di nuovo ridestatasi. Quella sera stessa mi fu consegnata la copertina da Manuela Parich, così si chiama, grafica, di speculare ipnosi e forse lei fu colpita dal mio magnetismo, dal mio uomo crepuscolare eppure, appunto, ipnotico. Ne rimase ipnotizzata e io rimasi trafitto, stordito, dalla sua bellezza, ripeto, esagerata. Ecco, speculare ipnosi. Per Natale vorrei anche pubblicare, stavolta in self-publishing, autopubblicatosi, autopubblicatosi e autopubblicatosi, verbo riflessivo, siate riflessivi. Uomini, siate ponderati e ponderosi, ma soprattutto poderosi, energici, armoniosi, armonici, letiziosi, squisitamente deliranti o deliziosi. Vorrei pubblicare Bologna insanguinata. Sarà un libro molto lungo. Un'analisi spietata, atroce, vorrei dire anche psicoanalitica o semplicemente malata, tra virgolette, di reminiscenza. Oh, io fui pazzo, come Jack Nicholson, di qualcuno valore sul nido, del cuculo. Cuculo. Cacofonico può apparire disgustosa o provocante, no provocatoria questa parola, ma questa è l'esatta pronuncia. Quindi non voglio più sentire ragioni e sentire soprattutto cuculo che non sta né in cielo né in terra. Ok? Questo deve stare qua. Ok. Detto ciò, omaggiato alla mia lei, che al momento non posso abbracciare, baciare. Posso con lei fornicare, ecco, dicevo accaldarmi. Non scaldatevi. Cerchiamo di raffreddare subito gli entusiasmi. So che siete rimasti senza parole, mutoliti, dinanzi alla mia giovinezza rinata, ma sì, mi arenai. Fui arenato? Sì, sì. Comunque non mi chiamo Renato. Mi chiamo Stefano. Fui un martire. Ma sono santo, semplicemente sano. Non sono arrabbiato. Vi ho perdonato. Mi sono vendicato di tanti soprusi, di persone dalle quali fui angariato. Non è vero. Sono un uomo fumantino. Un uomo iroso che si scalda facilmente. Quando suol dire il sangue ti va presto al cervello, ma anche riempie i vasi dilatatori, dei corpi cavernosi, i miei cavernicoli. Qualcosa si gonfia. Qualcosa è un pallone gonfiato? È una mongolfiera? O è semplicemente un uomo dal talento sconsiderato? Non lo so. È tutto vero. Quella sera mi fu consegnata la copertina e quella sera, poco prima, gli a lei facemmo l'amore. Io sono un uomo romantico. Non sono romanico. Non sono greco. Non sono spartano. Ma non sono neanche spartacus. Non sono ribelle. Sono bello? Non lo so. Vedete? È tutto attestato, acclarato. Vedete? Voglio leggervi qualche estratto. Vi ho letto qualche giorno fa la prefazione. Voglio leggervi la postfazione curatemi da Davide Stanzione. Al cospetto dello stile della leggenda dei lucenti temerari è legittimo rimanere sbigottiti e tramortiti, come me, di rimpetto a lei. Come se si viaggiasse dentro un incubo a nottambulo, invece il mio fu risveglio dopo una vita da sonnambulo, in cui i confini dell'immaginazione della supposta realtà si logorano, svibrano e frustrano vicendevolmente. Tutta la letteratura barocca è stata sempre condizionata al bisogno di fantasticare e di azzardare slittamenti progressivi del piacere per non affondare nelle paludi del già visto e del già noto. Sono molto geloso di lei. Come Tiberio Murgia con Claudia Cardinale dei soliti ignoti e sua sorella, però. Ma quello lì che cos mi rappresenta. Di inseguire la bizzarria fantasiosa ed esagerata per esaltare il potere generativo, non degenerativo. No, a me non soffro di nessuna malattia degenerativa, non sono un decerebrato, sono un uomo a volte invertebrato, a volte, ripeto, molto arrabbiato, cerebrale, ma anche all'occorrenza carnale e dal fascino seridire abissale. Allora, ed eccessivo della follia che cova sotto la superficie di ogni fragile, rassicurante, infingardo ordine sociale. Un momento storico in cui quasi tutti ci crediamo eccezionale, anche senza particolari meriti, e strepitiamo per fare sentire la nostra voce la prosa di Stefano Falotico, tenta un'altra via più rischiosa e più ardita, non in pallidita. Si ritaglia un cantuccio sincero e insanguinato, vedete? Bologna è insanguinata. Non mira la comunicazione diretta e immediata, la leggibilità veloce e istantanea in barba, io sono sbarbato, senza neanche la barbetta incolta, chissà, sono accolto, non lo so, alla complessità, sono un uomo complicato comunque, ma si affida al potere vorticoso, fascinoso, vorticoso, qui ci voleva la virgola, ma essendo flusso di coscienza, stream of consciousness, la virgola non è stata inserita apposta, apposto, di un turbinio di evocazioni da smembrare per ricostruire con un coraggio autolesionista che insieme balsano di libertà e senso di danazione autodistruttiva che si tocca con mano lungo tutto il testo, casualmente la citazione di Emily Dickinson che apre il libro, non conosco nulla al mondo che abbia dato potere quanto la parola, a volte ne scrivo una e la guardo fino a quando non comincia questa vita è ricominciata, a splendere, in perfetta sintonia con la dichiarazione di intenti lucente, letteraria, temeraria, è un testo che si consegna senza paraurti, indifeso, incandescente ai sensi delle parole e alle parole dei sensi come una lama elettrificata, il rasoio elettrico o la lametta artigianale per donare al mio viso una freschezza, una freschezza gioviale e ancora rovente, ferro da stiro, roventa per chi non si accontenta, chi si accontenta gode così così, che affonda nella nuda pelle della percezione delle lettere, è un libro abrasivo, un libro tagliente, riga dopo riga, sì c'è qualche ruga, ma soprattutto spasmo dopo spasmo, e io dopo essergli stato spasimante, le fui frizzante e schiumante, oserei dire, non voglio essere triviale, eiaculante, un gesto eversivo nel senso più antico e piacevolmente desueto del termine, viaggio al termine della notte, di anarchia fuori dal suo tempo e dalle mode, che tiene insieme gli inciampi più vergognosi e inconfessabili dell'ortismo maschile, i tradimenti degli ideali e delle norme, il candore luciferino, c'è un uomo diabolico, manca angelico, è lucifero, di un confessionale privato, dove ogni nevrosi e angoscia può trovare asilo, miasini, in una sorta di porto franco, marchiato a fuoco dai demoni dell'insonnia, ossiedo anche il fascino all'alpacino di insomnia, insomma, con affare da collante, o quando la melenda sei collante, in filigrana ma forse spudoratamente in primo piano, la forza sotterranea e salvifica del cinema e della letteratura, e non solo di queste cose che in una sorta dimostruosa, stavo leggendo, sorca scusa, dimostruosa ma benefica a simbiosi mitologica, a chissà quante teste, si nutrono di isolamento e disagio e lo risputano sotto forma di carne viva, carne tremula, tremante e oscena, apparentemente sono un uomo perverso, sono un uomo che non c'è verso, sa scrivere dei bellissimi versi, da cui le mie introversioni, non me ne faccio nulla di saper tradurre una latina versione. Finalmente in noi, senza più plagi, senza placche, e implacabili, assestati, inassestanti, equilibri ancora oscillanti, liquore che cangia, spette mutazioni, ventricolari dopo ventrilo, cui nostri monologhi a specchiarsi, volo pindarico fino alla meraviglia, fra luci di giostre che parvero spente tra questi spaventapassere, la mia passeggiata a un divo che medita un suicidio, infatti il mio primo libro, una passeggiata perfetta, inizia questi lincipit, sono sull'orlo del suicidio, è trascolorata, fra l'altro pubblicato dal Joker di Nove Ligure, vedete che tutto torna, non vuol più mescersi al tetro, esservi oscurate, andate, rischierate, canterò e danzerò di balli docili ammorbato da un miagolio selvaggio, non è una gatta, io sono lupesco, in me è tenerissimo, fra giochi che ronzano di battibecchi polemici e un altro sbandar pensando che da grande è un bel film, con Renato Pozzetto, me è big, sembrai Forrest Gump, invece sono otto mangs, non di Filadelfia, no? che no? che se ne dica? ma di salvate il soldato Ryan, vi salverò, uomini, persivi, smarriti vi nella notte, in questa guerra, intrincea, fratricida, che è la vita, ne morirai? no, ecco, se volete comprarlo, compratelo, se no volete comprarlo, compratelo, nulla, ecco, così, comunque, Bologna e Sanguinata sarà ancora più sorprendente, ecco, questo libro è stato scritto in un periodo di mia depressione, oserei dire allucinante, vivevo di stati allucinatori, e proprio sprofondai, nel nero, più noir, più fantasioso, più fantasy, poco amoroso, e sbandai, ma creai, mi ricreai, la mia, lei, mi ha rigenerato, e ancora ne vedrò, no, ne vedrete delle belle, e, beh, di mio, il falò, e un faro, nella night, dei vostri sogni perduti, mai nati o solo ammai nati, sì, uomini, dovete essere tutti quanti appassionati, rinati, innamorati, o forse solo, sbarbate, mi sono apparso barboso, barbuto, barbuto, non sono ancora un barbone, ma se non comprerete questo libro, e riprecipiterò, in uno stato agonico, forse laconico, ermetico, silenzioso, cupo e nervoso, mi suffo così, che da un tocco di malizia, al mio sguardo, ammantato, non più di tristizia, illuminato di dolcezza, di candida, levigatezza, non date più a me della schifezza, mie bellezze, sono un uomo, che vola alto, nella brezza, ma, la leggenda, dei lucenti temerare, un fisico asciutto, un libro corposo, che narra di amori, corpore, oserei dire corporale, di amori sensuali, di amori immaginari, immaginati, uomini immaginativi, questo mio libro, non l'immaginavate, vero? ma io sono un mago, sono un uomo magico, sono il re mago, la situazione si fa dura, si fa molto duro, la vince chi la dura, chi la dura, no, la vita, no, io sono geloso della mia lei, la mia lei ama Marinelli, Luca Marinelli, lo ama, lo adora come attore, e ama anche Al Pacino, chissà se è di Cruising, odyssey of love, di seduzione pericolosa, di Carlitos Way, chissà se sarà di Verra, di Verra, la mia sposa, questo valotico, indubbiamente, ha un certo, diciamo, carisma, un carisma, come si vuol dire, a pelle, a palle, un uomo, che ne sa una più del diavolo, voi siete cornuti, io la rivedo tutta, con le mie corne, la mia lei, e più bella, di Luisa Corna, e io quando voglio, posso essere un grande attore, Al Pacino, come si vuol dirmi, ha un baffo, Marlon Brando, non vale nulla, Jack Nicholson, in confronto a me, è un mestierante, è un dilettante, e Robert De Niro, è un inetto, ricordate De Niro e Pacino, in Right to Skill, Sfida senza regole, dinanzi a me, c'è un uomo eretto, in questo mondo infetto, regalateci confetti, e regalatevi, una lettura, che aprirà i vostri cervelli, e vi spronerà, alla vita. perché io sono anche Johnny Depp, non pazzo come Capitano Jack Sparrow, bensì Don Juan de Marco, maestro d'amore, non credevate alla mia storia, ma è tutto vero, e ora, silenzio, Mulholland Drive, la donna che visse due volte, speculari ipnosi, la vertigine del lieve crepuscolo, e Land Empire, Destroyed Story, una storia vera, solo un uomo linciano, che sta per essere linciato, ne che posta la sua finestra? ovun poste, Con me 195ventola ho dove